Ciao, sono Rachele Bruni, ho vinto la medaglia di bronzo ai recenti mondiali di nuoto in Corea del Sud nella 10 km. Come ambasciatrice del progetto Let's Be Active abbiamo pensato di regalare 6 settimane gratuite di attività fisica e non sportivi in tutta Italia. Fare sport fa crescere bene, previene l'obesità e previene i problemi cardiovascolari e poi semplicemente lo sport allunga la vita. Dove trovo la motivazione? La motivazione la trovo ogni fine di giornata quando torno a casa e il mio stress è diminuito, la mia forma fisica è migliorata e anche il mio stato d'animo. Lo sport mi aiuta a migliorare la mia vita tutti i giorni perché mi educa, perché mi fa rispettare gli altri e mi fa rispettare le regole e poi perché principalmente mi aiuta a accettare le sconfitte e le vittorie. Il mio consiglio è abbandonate il divano, scegliete una struttura sportiva e fatevi consigliare l'attività giusta per voi. Ci vediamo all'Olimpia di Isopio. Per partecipare andate sul sito Anif Euro Wellness e cliccate sul progetto Let's Be Active. Grazie mille.